Il 6-7 maggio abbiamo l'opportunità di cambiare il destino della nostra città e non possiamo assolutamente perdere questa occasione. Noi votiamo a Tino Di Mattia perché vogliamo più piste ciclabili in città. Io voto a Di Mattia perché voglio trovare lavoro qui e non all'estero. Perché con la raccolta differenziata pagherò meno tasse. Perché è giovane e porterà delle idee nuove per la città. Perché voglio sentir dire ai pescaresi, stasera ci vediamo in centro a Montesilvano. Per un fiume pulito e anche un mare pulito. Perché ha capito che un turismo ben gestito porta enormi risorse alla città. Perché ora che giovani, preparati e competenti occupino posti di responsabilità. Perché voglio che Stella Maris sia la casa della cultura e non quella dei drogati. Perché voglio poter tornare a casa la sera senza paura. Per favorire le energie rinnovabili e risparmiare sulle bollette. Per far diventare Montesilvano una città per la cultura e per il cinema. Perché è una persona preparata, ha lavorato all'estero ed è un brillante economista. Perché non è uno stronzo e sono certo che non lo diventerà col tempo. Perché chi è bravo deve poter andare avanti senza raccomandazioni. Perché questa città grossa vorrei che diventasse grande. Perché penso sia una persona onesta. Perché voglio essere orgoglioso di chi mi rappresenta.